Ciao ragazzi sono Gernan, bentornati, oggi video breve ma importante perché parla esattamente di quello che leggete dal titolo, ovvero di un passo importante, cosa mai sarà successo. Allora, senza fare troppi giri di parole, cerco di arrivare subito al dunque spiegandovi appunto di che cosa si tratta. Come molti di voi si saranno accorti, già da un bel po' collaboro con Next Hardware, per chi non lo conoscesse è un portale che parla di hardware, delle cose che piacciono a noi, perché peraltro è molto focalizzato sul gaming da quasi 20 anni con il massimo della professionalità. Quindi mesi fa sono entrato in contatto con i ragazzi della redazione e tutto lo staff e si è instaurato fin da subito un feeling fantastico. Motivo per il quale, visto anche che Next Hardware sta rinnovando completamente la sua piattaforma, abbiamo deciso di unire le forze per dar vita ad un progetto più in grande e più completo e una community che possa essere un punto di riferimento per tutti gli appassionati del mondo hardware gaming. Che poi fondamentalmente ragazzi è quello che avrei voluto sempre fare fin da quando ho aperto il canale. Non l'ho mai inteso come il mio canale, il canale di Kernan, ma come un qualcosa che potesse fare informazione in quest'ambito e dove magari potessero prendere parte anche altri creatori di contenuti al di fuori di me. Parlo adesso a tutti coloro che ci seguono da sempre e sono affezionati ai nostri video. Che cosa andrà a cambiare per quanto riguarda i contenuti? Assolutamente nulla, sarò sempre io ad avere la direzione artistica del canale, quindi la tipologia e il modo in cui verranno proposti i contenuti non varierà ma anzi ci sarà modo di mostrarvi più hardware, più test anche con un livello tecnico superiore, quindi in alcuni casi contenuti un pochino più approfonditi. Questo perché ci sarà un team di persone con le quali io mi potrò confrontare, con le quali ci potremo scambiare dei dati. Quindi sotto l'aspetto qualitativo lo dovete vedere assolutamente come un upgrade, un miglioramento. Cercheremo di portarvi anche video in modo un pochino più assiduo e regolare, sto cercando un'altra persona che mi possa affiancare qui su YouTube visto che Andrea, come vi sarete accorti, non sta più facendo video da tantissimo tempo e purtroppo le cose non cambieranno. Anzi approfitto per aprire una parentesi, visto che me l'avete chiesto in tanti che fino avesse fatto Andrea, Andrea non sta più prendendo parte al canale semplicemente perché non ha più tempo per sue questioni personali, non può più partecipare a questo progetto e gli facciamo ad ogni modo un grandissimo in bocca al lupo per tutte le sue avventure. Momentaneamente il nome del canale rimarrà Prophecy Deck per una questione di indicizzazione, trovate già in descrizione i vari social. Anche di questo sono contentissimo perché ultimamente è veramente diventato difficile rispondere a tutti quanti a starvi dietro, come sapete abbiamo una mail dove potevate ad esempio chiederci consigli su configurazioni o in generale se avete un problema, ma ci scrivate veramente in troppi e lo so, nell'ultimo periodo molti di voi non hanno ricevuto una risposta. Adesso vi dico che in descrizione trovate sia un forum che un gruppo Facebook popolato da ragazzi competenti che vi aspettano a braccia aperte, quindi se avete un dubbio o un problema, ripeto, con il vostro PC o volete semplicemente un consiglio potete riferirvi a loro. E niente, anche se breve era doveroso dedicare un video a questa novità e spero che voi sarete con noi in questo passo importante che abbiamo deciso di fare. Ci vediamo alla prossima, da Kernan è tutto.